Durante la pubblicità faremo gli ultimi riscontri e poi se il Consiglio dei Ministri dovesse durare ancora a lungo ovviamente daremo luogo alla programmazione della 7 e poi vi daremo tempestiva notizia di quali saranno le decisioni. Intanto ci fermiamo. Termina domani. Oltrone Sofà. Autentica qualità. Tecnogym. Da sempre la migliore esperienza di allenamento. Maestro, oggi ci racconta una favola! Sì, se ce la faccio. Il mal di gola interrompe le tue storie. Neoborocillina gola dolore. Cura l'infiammazione e combatte il dolore. E vissero tutti... Neoborocillina, da 70 anni, esperto della gola. E per un'azione mirata, Neoborocillina gola dolore e anche spray. Cosa c'è in Foxy Cotton oltre alla morbidezza? Lo spessore. La resistenza. E l'assorbenza. Di cinque veli. Carta igienica Foxy Cotton. Un solo strappo può bastare. Un prestito non ti cambia la vita. Una cameretta nuova per tuo figlio, sì. Con Agos, 12.000 euro, in rate da 190 euro e zero spese. Chiama subito. Agos. La tua vita con qualcosa in più. Ma che bel posto. Siamo nel cuore della natura. Zenzero, moringa, cacao. Sono i superfood delle nuove tisane L'Angelica. Miscelati per un gusto unico e intenso. Deliziosa. Adoro questo posto. Questo posto è dove nascono le tisane superfood L'Angelica. Ordiniamo qualcosa da mangiare? Solo con Glovo puoi ordinare da qualsiasi ristorante. Dai migliori hamburger al tuo sushi preferito. Scarica Glovo. Tu ordina, ci andiamo noi. Le persone non sanno che i denti sensibili possono essere riparati. Senso della Repair and Protect ripara i piccoli bucchi della dentina, formando uno strato duro che protegge dalla sensibilità dentale. È sia un aiuto che un sollievo. Sottotono. A volte. Colorito spento. Questo mai. Golden Age crema rosa di L'Oreal. Con la vitalità dei polifenoli di Peonia in una texture rosa che rivitalizza il colorito. Da oggi esprimi il tuo splendore con un colorito sano, luminoso. Io vivo ma via un roso. Prova la crema rosa Golden Age da L'Oreal Paris. Noi valiamo. Nuova con Hybrid. Hybrid and fun. Nuova con Hybrid. Tua con interessi zero da 199 euro al mese. Solo febbraio con extra bonus Hybrid. Anche sabato e domenica. Il colesterolo alto può ostruire le arterie. Un modo efficace di combatterlo è dopo i pasti con Danacol. Grazie agli steroli vegetali riduce l'assorbimento del colesterolo. È con Danacol la ricetta efficace contro il colesterolo. Da quando ero piccolo a colazione c'è Orosaiva. Nonna dice che è buono e semplice perché è fatto con i chicchi migliori. Non spreca l'acqua e protegge le api. Per questo l'ha scelto. L'ha fatto per me e per la terra. Orosaiva. Ogni giorno, un giorno buono. Parmigiano reggiano è il formaggio più imitato al mondo. Ma sapete perché è inimitabile? Perché le nostre mucche mangiano l'erba ai foraggi di questa terra. Anche per questo è senza conservanti. Giovane è delicato. Poi il 24 mesi, il 40 e oltre. È buono sempre. È ricco di calcio e naturalmente privo di lattosio. Ed è ideale per chi pratica sport. Per questo è già finito. Parmigiano reggiano. Quello vero è uno solo. Le assicurazioni auto. Il festival delle promesse. Per la polizza auto ho scelto Conte.it. Quando bisogno ci sono sempre. Risarciscono in fretta. E un prezzo più basso io non l'ho trovato. Fate un preventivo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. In qualità di gatto intenditore amo condividere ricette come quelle di Gourmet Montpetit. Piccole porzioni per pasti sempre freschi. Divine Gourmet. Io non ho mai visto le 5 terre. Io la spiaggia di Codini. E io non ho visto la sabbia rosa di Budelli. Proteggete l'ambiente. Scegliete energia e fibra sostenibile. On a sunny day. Allora, mentre non eravamo collegati. Ovvero, mentre andava la pubblicità. Abbiamo fatto dei riscontri. Siamo in...